Pochi poliziotti e più compiti da svolgere una situazione insostenibile. La denuncia arriva dal SAP, il sindacato autonomo di polizia della provincia di Lucca. L'emergenza riguarda tutti i reparti, la questura, i commissariati versigliesi, i distaccamenti di bagni di Lucca e Viareggio e la sottosezione della polizia stradale di Viareggio. Il numero dei poliziotti, decisamente inferiore a quanto effettivamente è previsto, ha due conseguenze, spiega il sindacato. Da una parte il ritmo elevato di lavoro e i turni lunghi degli agenti, dall'altro un minore controllo del territorio in un momento in cui i reati crescono. Attualmente, visti i pensionamenti che ci sono stati negli ultimi cinque anni, non abbiamo avuto reintegro di personale e tuttora siamo in pieno disagio, anche perché l'età anagrafica dei nostri operatori comincia ad essere un'età intorno a 45-50 anni. Quindi noi pensiamo che anche per quanto riguarda il futuro ci dovrebbe essere un ricambio di personale idoneo a garantire la sicurezza nella nostra provincia. Anche perché il lavoro dei poliziotti non si limita a quell'operativo sulle strade, ma è accompagnato da pratiche e compiti da svolgere in ufficio. Alla coperta, come si dice corta, si aggiunge una gestione del personale ritenuta dal sindacato poco culata. L'esempio lampante arriva dalla stradale, dove le pattuglie lucchesi vengono dirottate su altre province, in particolare sulla FIPILI. Solo per raggiungere l'inizio dell'itinerario previsto devono percorrere circa 80 km al giorno, 2000 km al mese. La Polizia stradale di Lucca ha rilevato non poco tempo fa un incidente stradale a Montopoli-Valdarno, quindi con tutte le problematiche sia a livello operativo per gli operatori che intervengono sia a livello gestionale dell'incidente stesso. Da qui la richiesta agli organi nazionali e locali affinché sulla provincia di Lucca venga dirottato altro personale e quello già in servizio rimanga a lavorare sul territorio di competenza.